eccomi 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 buonasera amici e amiche rossoneri ragazzuoli e ragazzuole belle come dico sempre io simpaticamente vi abbraccio tutti e vi benedico tutti ora pronobis allora ragazzi ragazze partiamo razzo buon prima di tutto buon martedì 21 febbraio 2023 di questa serata di martedì 21 febbraio 2023 ore 19 13 le notizie sono belle fresche anche se il video è registrato e buona giornata se mi vedi il giorno dopo allora avete visto l'uomo in copertina che non c'entra niente col calcio ma lui è un tifoso interista a maggior ragione colui che ha detto la frase che è stata pronunciata dalla sua bocca a una trasmissione televisiva poi ve ne spiegherò alla fine di questo video è una cosa che a mio modo di vedere io mi vergogno per lui nel senso di lo dico sinceramente questo si può dire si può dire perché io una cosa leggenda non avrei mai detta neanche per fare una battuta è una cosa che ferisce noi tifosi milanisti e ferisce anche chi appartiene a quell'orientamento sessuale ragazzi partiamo a razzo le notizie sì in effetti non sono belle sia alla fine di questo video che inizio questo video una cosa devo anche dire i tifosi tedeschi dell'Echtrat praticamente lo sapete stasera c'è la partita del napoli contro l'Echtrat alle ore 21 io la vedrò spero che anche qualcuno di voi la veda perché voglio vedere una bella partita voglio vedere una napoli che a questo punto asfalta l'Echtrat per quello che è successo oggi per colpa dei tifosi tedeschi allora faccio un piccolo preambolo qui oggi come oggi il mondo per come sta andando avanti lo sapete di questa guerra che c'è in corso una guerra anche se vogliamo anche di opinioni di cultura occidentale contro il mondo orientale russo cinese quant'altro c'è coinvolto un paese lo sapete tutti l'ucraina però il discorso è questo sì la si può pensare come si vuole però bisogna sempre secondo me approfondire le notizie cercare di fare un'opinione propria però qui ci sono persone soprattutto nei nostri politici che si riempiono ogni giorno la bocca di buoni principi io penso che ormai viviamo nella peggiore ipocrisia di questa di questo mondo questa epoca storica che noi stiamo vivendo che forse a mio modo di vedere è non voglio esagerare una delle peggiori in assoluto proprio per quello che ho detto adesso per l'ipocrisia dilagante dove ognuno racconta balle su balle per tirare a sé la propria ragione oggi mi viene in mente dopo questa frase è stata detta al nostro presidente del senato praticamente tutti i buoni propositi noi noi europei noi europei vogliamo profondere bene amore in tutto il mondo ma dove mi ricollego all'inizio di questo video quello che vi sta succedendo adesso ai tifosi del napoli e spero che non succeda nessun disordine dopo la partita di ectrat napoli perché è una cosa vergognosa perché non so se lo sapete sono stati apposti dei manifesti fatti degli striscioni terroni di puntini puntini rivolto praticamente agli italiani del sud italia e molto probabilmente proprio qualche bon tempone per non dire maleducato per non dire di peggio che mi fanno ribrezzo queste persone di tedeschi hanno fatto proprio questo simbolo di questo oggetto di questo di questo escremento per questa frase che hanno affisso bene allora io come ho detto prima lo dico apertamente perché io non voglio essere un ipocrita siccome io credo ancora nei valori delle parole e nei valori della di quello che è l'uomo in questa vita su questa terra che non deve pensare alle cavolate riempendosi la bocca di ipocrisia bene io lo dico tranquillamente caro ectrat cari tifosi tedeschi dell'ectrat voi meritate stasera di perdere 4 o 5 a 0 contro il napoli questo lo dico tranquillamente bene adesso passiamo alle notizie sul nostro milan veloci mike magnan praticamente quasi recuperato del tutto insieme a florenzi tra l'altro questa è una buona notizia oggi si sono aggiunti la prima parte di seduta con il gruppo speriamo che mike comunque ci sia contro l'atalanta non penso a questo punto che sarà operativo partirà dalla panchina forse la partita dopo perché in effetti oggi si è capito un po questo però ragazzi il discorso è che per benasser e calabria dobbiamo attendere ancora un'altra settimana forse molto probabilmente tanto è vero che ieri vi ho detto forse forse a disposizione anche benasser per l'atalanta e calabria anche lui forse a disposizione saranno in panchina non si sa vedremo oggi tra le altre cose giorginio lo ricordate giorginio l'ex giocatore del napoli cesse e quant'altro adesso in forza ai gunners praticamente oggi ha urlato forza minan perché ha urlato forza minan perché c'è un antagonismo feroce nei confronti cioè dell'arsenal nei confronti del totem e ha dichiarato questo forza minan sono sicuro che tutti i tifosi dell'arsenal faranno il tifo per il mina ovviamente ritorno di champions league grazie grazie poi oggi sono d'accordo con una parte della dichiarazione di cassano su come gioca il mina vi leggo cosa dichiarato testualmente cassano antonio cassano oggi io generalmente non sono mai d'accordo con cassano però questo ve lo devo leggere cassano dice dopo la salernitana io sono due mesi che lo aspetto si riferisce alle ao contratto non contratto dimostramelo andata contro il tottenham non bene adesso bisogna vedere al ritorno leao dice cassano poi la realtà dei fatti che devi fare devi fare ed in europa è dura cassano dice sempre sulle ao se mi dimostri ti do 10 alland se gioca in inghilterra o in europa fa gol vero su questo cassano ragione è decisivo secondo me il milan deve ricambiare assetto tattico vero io da quanto tempo lo dico e voi da quanto tempo lo scrivete solo con zaccheroni a proposito un abbraccio a mister zaccheroni alla sua famiglia perché lo sapete caduto in casa caduto in malomodo è una situazione abbastanza critica in ospedale insomma io cosa devo dire spero che zaccheroni si rimetta un abbraccio alla famiglia a lui solo con zaccheroni ho visto la difesa 3 ma a me non piace il milan ha dato spettacolo giocando a 4 anzi a 2 uomo contro uomo ragazzi su questo io cassano non gli posso dare torto ha ragione punto a capo bene adesso veniamo sul finale questo video a quello che è l'uomo copertina il presidente del senato ignazio la russa con il rispetto che ho nei confronti del presidente del senato ignazio la russa grande esponente di fratelli d'italia perché comunque la seconda carica dello stato italiano complimenti a lui che è riuscito a diventare presidente del senato ci mancherebbe un uomo che per una vita ha fatto politica per una vita ha creato anche delle contestazioni a livello politico con le sue affermazioni piuttosto che ognuno questa vita la conduce a propria maniera per come la pensa per quello per cui lotta come idee bene io con questa sua dichiarazione sono completamente in disaccordo ripeto provo vergogna perché siamo stati coinvolti noi tifosi milanisti pensando lui che fosse una battuta giocherellona ma in realtà tutto il contesto ha assunto un significato completamente diverso e che io lo trovo veramente deplorevole anche perché lo dico tranquillamente per l'ennesima volta io un video ho lanciato qualche flash ma io da questa classe politica italiana ma se vogliamo anche europea se vogliamo anche occidentale proprio per quello che io adesso mi compete per quello che leggo di più adesso io non voglio parlare delle politiche orientali cinese indiana russa piuttosto che che non me ne frega niente però non trovo giusto che questa classe politica non ci rappresenti più perché fanno i loro interessi con i loro paroloni senza veramente dimostrarci dimostrare a noi popolo cosa veramente deve essere fatto per il paese a dimostrazione quella dello stadio nuovo una vergogna bene il presidente del senato ignezzo della russa era praticamente ospite alla trasmissione belve di francesca fagnani la compagna attuale di enrico mentana il direttore del tg la sette di la sette ignezzo della russa però che parole ha dichiarato questo e poi fate voi i vostri commenti personali che sia chiaro i vostri commenti personali se mio figlio dice ignezzo della russa il presidente del senato mi dicesse di essere omosessuale accetterei con dispiacere la notizia perché credo che una persona come me etrosessuale voglia che il figlio gli assomigli ma se non succede pazienza sarebbe come se fosse milanista sarebbe come allora prima di tutto come ci si permette di una roba così cioè contestualizzare chi ha un orientamento sessuale come gli omosessuali con il dispiacere che ragazzi e poi confondere sarebbe come se fosse milanista io guardate ve lo dico sinceramente come ho fatto nella copertina no comment no comment penso che si riveli per le sue parole per quello che ha detto questa persona perché non è non è giusto non è giusto fare battute di questo tipo non è assolutamente giusto io spero che un giorno il presidente del senato chieda scusa chieda scusa come deve essere dovuto io non lo faccio per moralismo che non me ne frega niente sia gli omosessuali che a noi milanisti perché tutto è ripeto è tutto il contesto messo insieme che è una cosa veramente no commento totale forza mina sempre comunque ovunque ragazzi che ci dobbiamo fare viviamo in un mondo di ipocriti che devo dire lo dico in senso generale ma questo è quanto dobbiamo essere forti noi informarci leggere e capire le cose e ragionare con la nostra testa almeno cercare di ragionare con la testa vi mando un abbraccio a tutti ciao